Mi racconti l'esperienza più incredibile che hai fatto? Quella che racconti a cena con gli amici di infanzia? Fatte un botto. Il ciclone a Socotra è stata una gag incredibile. E lì pensavo, ma ci rendiamo conto che sono partiti pensando di farsi il viaggio tutto perfetto, preciso, e si sono beccati un ciclone. Però ci siamo divertiti, è stata una figata pazzesca. Un posto assurdo. Un posto assurdo. Bellissimo. Socotra è incredibile, ma dove siamo finiti noi era veramente un tugurio, una roba orrenda. Sono le cose che ti ricordi di più. Esatto, sono le cose che ti ricordi di più. Adesso a Panama siamo andati a dormire in un villaggio di Emberà, che è una tribù che sta lì in questa foresta che penso sia già la zona del Darien, che è l'unica porzione di Panamericana interrotta in cui non ci sono strade. Quindi se tu fai la Panamericana dall'Alaska fino alla Ushuaia... Esatto, il Darien Gap tu non lo puoi passare con il tuo mezzo o a piedi, devi prendere la barca, perché la foresta è pericolosissima, è piena di narcos e quindi non ci sono anche delle strade. La strada che appunto dall'Alaska, la Panamerican Highway, scende e arriva fino a Panama a un certo punto si interrompe e riprende poi in... Colombia? Dovrei saperlo. E quindi c'è quella porzione lì che è interrotta. E poi tu riprendi a fare un barca e riprendi e vai giù fino a Ushuaia. Perfetto. Noi siamo andati in un villaggio di Emberà, quindi una tribù che sta lì, però ci siamo andati prendendo un bus, partendo 5 al mattino, prendi il bus, vai in questo posto qua, poi sali nel cassone del pick-up, scendi fino all'inizio del trekking. Tre ore di trekking. Io tra l'altro avevo una branchia sul piede perché mi sono tagliato con i coralli, perché ci siamo schiantati contro i coralli nelle isole deserte un paio di giorni prima. Avevo sto piede tagliato e tutti proprio pieni, pieni di tagli i miei piedi e stai tre ore a fare trekking guadando in continuazione lo stesso fiume. Quindi i piedi sempre bagnati. Poi sali sul gommone, 5 ore di rafting, piedi sempre bagnati, arrivi alla sera che sei smontato, ma sei nel villaggio che la gente raggiunge comodamente dall'altro lato in mezz'oretta. Ma noi ci abbiamo fatto sette ore di viaggio. Quando arrivi al villaggio è la cosa più bella che ci sia. Capito? E lì te lo sei guadagnato, è un'esperienza molto più figa così. E infatti sì, due ore in meno di rafting, non mi serve dispiaciuto farne due ore in meno perché è stato veramente pesante. Però è stato troppo figo, capito? Cioè quelle sono le cose che ti guadagni e ti rimangono. È vero. Ma guarda, io ne parlavo proprio con lui poco tempo fa che anche noi abbiamo fatto sia viaggi in resort 5 stelle luce, sia avventure e alla fine non c'è paragone. Ti faccio un esempio, siamo andati due settimane fa a Santo Domingo, siamo stati tutto il viaggio chiusi. Bellino? No, noi siamo stati chiusi in un resort. Ci sta, ragazzi. No, no, invece no. Secondo me ci sta. Non bisogna demonizzare le vacanze. Anche se non fanno per me. Io ti dico che uno che lavora tutto l'anno, che si prende le ferie e vuole andare in vacanza, se arriva uno che fa il viaggiatore con la puzza sotto il naso e dice no perché tu devi andare a dormire in tenda, ma può fare quello che vuole uno, che vuole andare in crociera, vuole andare in villaggio turistico, vuole andare, non so, a fare una roba super tranquilla, che non si muove dal villaggio, ma uno sarà anche libero di pazzo. Ognuno fa quello che vuole. Però ti dico io personalmente, tornassi indietro, non starei nel resort, ma andrei a visitare Santo Domingo. Sì, i viaggi più belli che ho fatto sono quando stavo negli ostelli. Vabbè, ma ci sta, ci sta. Però magari uno non ha voglia di dividere il bagno con uno sconosciuto, non ha voglia di avere l'ansia che lascia le cose in stanza e gliele ciulano, capito? Magari uno vuole farsi la vacanza, fatta bene. Io sono sempre un po' in mood turista, capito? Quando viaggio, è il grande viaggiatore. Vivitela come un turista, vai a mangiare italiano se vuoi andare a mangiare italiano, vai a fare la roba super turistica, vai a vedere i souvenir brutti che vendono. Poi io sono uno che perde un sacco di tempo a vedere i supermercati, quindi posso parlare, capito? È una cosa bella anche del tuo canale. Comunque non pensavo che avresti dato una risposta così. No, invece... Cioè, nel senso, a livello di mente così aperta. Ma perché ci sono, veramente, ci sono quelli che hanno una puzza sotto il naso assurda che... perché? Per fare... Io sono andato da Aruba, ho fatto una settimana da Aruba. Dopo poco mi volevo già un po' tagliare le vene, perché chiaramente non è un fa per me. Però allo stesso tempo, proviamoci a far sì che faccia per me la destinazione. Mi alzavo prima dell'alba e andavo a fare trekking. Cioè, comunque, quelle sono cose che ricordo bene. Ho nuotato con una tartaruga, non è una cosa scontata. Ci siamo divertiti, è stato bello. Siamo andato a mangiare da Olive Garden, capito? Che fa schifo, però... Sì, è la catena quella che andaste con Barba Scura. C'era anche a Panama, c'era anche a Panama. Porca miseria, una maledizione quella catena. Sì, sì, c'era anche a Panama, volevo andare con i ragazzi del gruppo che però mi hanno detto, Nico, non so se è il caso di andarci prima di prendere un volo di 13 ore, ma c'hai ragione. E non siamo andati. Abbiamo una concezione italiana totalmente sbagliata. Tutto sbagliato. Però ti diverti, ti rimane, capito? Cioè, sono cose che ti rimangono. Come anche il viaggio che hai fatto in Antartide, giù, con i pinguini. Come si chiama l'isola? In South Georgia. South Georgia. Appena arrivato, pasta al ragù. Ma che pasta a peste avete fatto? Sì, quella in Antartide. Però appena arrivato in South Georgia, mi sono mangiato un piatto così di pasta al ragù. Il classico italiano. Sì, madonna, devo vergognarmi di essere italiano? No, mai! Ho bisogno della pasta. Ma mi fanno la pasta asciutta sulla nave, mi mangio un piatto di pasta appena arrivato in South Georgia. Sono arrivato in South Georgia e ho fatto una bella fotografia. No, mi sono fatto un piatto di pasta grosso così. Cioè, ti rimane di più dentro, capito? A me queste stupidate. Bisogna inserire un po' la componente ignorante nei viaggi. Perché se no, quando poi ti guarderai indietro a distanza di totanni, cosa ti ricorderai? Soltanto le cose belle, precise, fatte bene. Ci vuole un po' di stranzate nella vita. Anche sono proprio quelle che ti ricordano. Belle però, divertimento sano. Cioè, io non sono uno che ti dice ti devi ubriacare a schifo, devi far questo e quell'altro, devi provarci con quella e andare in quel locale lì che ti fanno questo. No. Però ho capito, una volta ho portato un viaggio, un Tokyo Safari, eravamo a Tokyo, e ho portato i ragazzi a vedere un quartiere che nessuno visita quando va a Tokyo. Quale? Dimmi. Era Koenji. No, era Koenji. Non mi ricordo se era Koenji o era Kitasenji, o comunque uno dei due. Ok. E lì c'era un ristorante dove ho portato tutti a mangiare, perché questo ristorante si chiamava Andiamo all'uscita. Ristorante italiano. Andiamo all'uscita. Io sono andato lì perché poi… È sempre un nome giapponese, eh? Sì, sì, sì. Andiamo all'uscita. Andiamo all'uscita. Io sono andato solamente per mangiare italiano, riso tutta la sera. Cioè, no, pasta tutta la sera, però abbiamo riso tutta la sera. E poi ho detto, raga, andiamo all'uscita. Oh, Devast, bellissimo. È tipico, eh? È il tipico del Nick quando prendi le cose. Io ho mangiato la pasta con la bottarga a Tokyo, capito? Cioè, era schifo. Lo sapeva di lettiera per gatti, una cosa terrificante. Però entri lì, acquapanna, acqua San Pellegrino, panettone Alemagna, c'avevano. Cioè, ti gasa sta cosa. È una sera. Perché la gente pensa che se tu vai a mangiare italiano, eh, ma io devo mangiare il cibo del posto. E tutto il resto del viaggio mangiare il cibo del posto. Non dico andare al McDonald's. Però ci sta che mangi il cibo italiano una sera. Fa ridere. non, non, Grazie.